Andiamo oggi a vedere le cascate di Stiffe, un luogo non facilmente accessibile ma neanche tanto difficile. Qui troviamo un fiume, una vegetazione molto rossureggiante, pareti rocciose altissime. Siamo a Stiffe dove ci sono le grotte, qui dietro ci sono le grotte. E ci avviciniamo, finalmente vediamo la cascata. Signori, la cascata di Stiffe, molto bella, molto suggestiva. Grazie a tutti.